Yuri Romano, una bella Italia, 3-0 la Germania e una prestazione molto positiva anche la tua? Sì, non era una parità facile per noi, soprattutto per la Germania che ha fatto un bel percorso fino a qui e noi ci siamo anche trovati praticamente 3-4 giorni fa, abbiamo fatto solo 3 allenamenti con questo gruppo quindi tornare a casa con un 3-0 è molto positivo. Ci avete preso poco a trovare gli ingranaggi giusti però? Sì, comunque è un gruppo che si conosce già l'anno scorso, abbiamo fatto un bel percorso all'europeo e ora dobbiamo ritrovare quei meccanismi che avevamo l'estate spossa. Domani riposo, poi il Giappone, una partita insidiosa? Sì, il Giappone sta dimostrando di avere un bel gioco, ha vinto quasi tutte le partite mi sembra e quindi sarà un bel test per futurarsi questo giorno per riposarsi e preparare la partita.